Operazione Anticamora nei quartieri Barra e Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, dove i carabinieri e la Polizia di Stato hanno eseguito questa mattina 40 misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute affiliate al clan camorristico Cuccaro-Andolfi. Al blitz scattato all'alba hanno preso parte i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e gli agenti della squadra mobile di Napoli. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale Partenopeo su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. I reati contestati sono associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, contrabbando di sigarette, introduzione e spesa nello Stato di banconote false e ancora estorsione, omicidio, corruzione in atti giudiziali e detenzione porto abusivo di armi da fuoco. Ulteriori dettagli dell'operazione li ha forniti il capo della Procura di Napoli, Giovanni Colangelo, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Procura. Erano tre organizzazioni criminali che si contendevano il territorio e le attività illecite sullo stesso territorio, con metodi particolarmente violenti, spregiudicati e del tutto incuranti dell'incolumità dei cittadini. Quindi è stato necessario adottare una strategia investigativa che colpisse tutte e tre le organizzazioni contemporaneamente per evitare che, azzerando un clan, gli altri se ne potessero avvantaggiare. I giovani non ancora maggiorenni o appena maggiorenni che prendono i posti delle leve più anziane e che comunque non si fanno scrupolo di attuare strategie criminali particolarmente violente. È un dato sul quale la sociologia e le istituzioni preposte dovrebbero riflettere.